guardo che io un po di marketing ho fatto eh eh sì certo ho fatto marketing all'oyale no no lo chalet all'oyale come si la università dell'america sai io perché siccome c'ho la lingua la lingua non vabbè un giorno parleremo approfonditamente della mia lingua è stata la loyale punto basta sì e anche berkeley io sono musicista o te lo devo far vedere e poi con tempo niente e siccome sono ho girato il mio l'ho fatto no infatti io vengo ora perché sono in pensione no 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 bimbi 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 ragazzi signore per favore no no eh questa cosa no 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 non è che perché sono in pensione non c'è un cazzo cioè non c'è niente da fare diciamola siamo in radio no siamo in radio eh ma credila tutta tu dai cioè compostella no ah no dico vabbè qui ci dicono sì anche se la manca a non di essere composti sì va bene e silvio silvio sveglia no e la gente questa che mi mandai fuori capito allora vi raccontavo è bello però parlare così impunemente alla gente oh ti senti un come si chiama un potente è potente devi parlare che puoi parlare non so io ho qualche un giro di tele telefonate chiamate perché non telefonate scusa non c'è nessuno che sta telefonando ora ma che sì dai su la suoneria vocale vuoi radio cambocia la tua vocazione